Teo, non farlo, mi raccomando Teo, cioè manca solo questo. Buongiorno a tutti, buongiorno da Terrazza Milan, oggi è un gran giorno perché ogni volta che gioca il Milan è un gran giorno e grazie soprattutto alla Atalanta B che ieri ha fermato la grande Inter. Siamo proprio diventati un campionato, non so come definirlo, perché quando il grande Milan vinceva, vinceva nel primo campionato d'Europa, oggi la grande Inter vince nel quinto campionato d'Europa e poi quando di fronte all'Atalanta, ma sì, ma dai, e poi alla fine cosa vuol che siano, quello è forte, quell'altro è forte, otto titolari mancavano, otto, zero a zero. E così c'è la possibilità del sorpasso, ve lo ricordate il film di Gasman? Il sorpasso, mi raccomando, sorpassare con prudenza. Perché oggi, e lo sottolineo dieci volte, perché gli infortuni, quelli che risultano positivi al Covid, le squalifiche, i rigori, ah sì, dai, poi alla fine il calcio si equilibra, si equilibra un cacchio, si equilibra, non si equilibra niente, non si equilibra niente il calcio, niente. C'è la nuova Juve, che chiameremo Junter, e poi ci sono le altre. Così finalmente, dopo decenni di frustrazione, decenni di frustrazione, dopo aver visto per sempre, da sempre vincere gli altri, finalmente, mi ricorda qualcuno nella politica che diceva ladroni, Roma ladroni, ladroni, Roma ladroni, poi era più ladroni di Roma. E andiamo avanti, oggi sono polemico. Mi raccomando, Teo, perché mi raccomando Teo? Perché Teo è diffidato. E guarda tu, se non arriva il cartellino giallo, guarda, perché poi abbiamo la Rubentus e poi abbiamo la Nuova Rubentus, quindi abbiamo Milan Rubentus e Milan Nuova Rubentus, quindi questo Teo che fa tanto paura, Calabria che rientra con la Rubentus, Tomori che potrebbe rientrare con la Nuova Rubentus, Teo che non deve fare, fa il Pioli, non lo far giocare, guarda, se non vinciamo con la Spezia, magari anche con una buona riserva, vuol dire che non siamo da scudetto, non rischiamo Teo Hernández, punto. E tra l'altro di Teo Hernández dobbiamo un attimo parlare, perché è vero come è vero che i nuovi terzini non sono come quelli di un tempo, o meglio la figura del nuovo terzino l'ha inventata un tale che si chiama Paolo Maldini, che faceva tutta la fascia, tutta la partita. Teo Hernández è un uomo che quando parte non lo prendi, è un uomo che sulla sinistra spacca. Dal punto di vista difensivo diciamo che avrei preferito qualcuno che coprisse maggiormente, soprattutto in una difesa a quattro. In questo caso però, mentre Teo deve migliorare nella fase difensiva, è pur vero che in un Milan è super titolare, in questo Milan è super titolare. Se poi ci mettete che non abbiamo centrali, seppur Romagnoli, aspetta, aspetta questi tamponi, ormai sono quasi due settimane, 11-12 giorni, che non risulta negativo e lui si allena, sì, ma si allena a casa, voglio dire cosa fa la cyclette. Il problema è che quando rientrerà magari un Romagnoli, quando rientrerà in Calabria, perché Calabria è già rientrato, vi ricordate Ebrahim Diaz dopo che è rientrato dal Covid? Non è stato lui fino alla fine, nel senso che era stato ancora adesso, gli strascici li lascia comunque, soprattutto quando devi giocare a certi livelli. Altro discorso è per Ibra, ma Ibra se ne è mangiato. Bene, allora il concetto che rimane è che noi questa sera possiamo tentare il sorpasso, che ci interessa fino a un certo punto, o meglio, ci interessa perché è condizio sine qua non per poter fare poi il ragionamento successivo. Cioè noi scavalchiamo la nuova Rubentus, la quale ha una partita in meno contro il Bologna, facciamo che contro il Bologna vince, perché Miajlovic si scansa, perché le danno due, tre, quattro, cinque rigori e siamo sempre a meno due. E poi c'è il derby. Ora ragazzi, io capisco che voi il pathos lo mettete in tutte le partite e lo sapete equilibrare, ma il derby si vince solo se entri con quella cattiveria che io purtroppo vedo più alla nuova Rubentus che al Milan. Cioè se devo fare una critica a questo Milan non è che gliela posso fare dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista tattico io lo lascio a chi è più esperto di me. Dal punto di vista tecnico è vero che i giocatori dell'Inter sono forti, è vero che anche Milan ha giocatori forti, la mia frase è sempre la stessa, l'Inter per me è un po' più forte, ma mi annoia, il Milan mi diverte. E in prospettiva l'Inter ha persone, ha una media età di oltre 28 anni e il Milan di poco più di 18 anni, quindi io in tutto e per tutto preferisco il Milan. Ma nel momento in cui io dovessi fare su una bilancia, dovessi mettere su una bilancia cosa toglieresti all'Inter, cosa vorresti, io direi la stessa Cazzimma, come disse una volta De Laurentiis, che io non vedo nel Milan. Cioè quella, ora più che Cazzimma, noi l'ho chiamata il gattusismo, quella voglia di spaccare, di vincere, quella cattiveria, che oggettivamente io vedo in Rebic, che io non vedo invece in Leao, Leao è un giocoliere, un funambolo, lui è così, prenderlo a lasciare. Ibra vive la sua fase di gioiosa senilità, bisogna che ritorni un po' l'Ibra di prima, al di là De Gaulle, bisogna far sentire quel peso. Ora la saggezza va bene, ma la saggezza non deve lasciare spazio al rammollirsi un pochettino. La stessa gattusità, la stessa Cazzimma, purtroppo io non la vedo in gabbia, io non la vedo in calulù, io non la vedo in tonali, moderata, moderata, soprattutto perché indossa la maglia numero 8, quindi non la vedo in... però voglio dire, quando c'è più qualità e meno Cazzimma va bene, quindi su alcuni giocatori vedo più qualità, ma vedo meno grinta, ecco, questo è sicuro. Quindi Pioli deve migliorare da questo punto di vista. Quindi stasera, mi raccomando, apre e chiudo parentesi, potrebbe ritornare prima Benasser, perché la sua nazionale sta per essere mandata a quel paese e quindi potremmo riavere prima Benasser, perché sì, il discorso a parte, perché sì. Chiudo dicendo che il Milan femminile, guardate qui sotto, il titolo, esordio shock della Giacinti, spero torni presto al Milan, la Giacinti ha giocato la prima partita con la Fiorentina, risultato finale, la Fiorentina ha perso 6 a 1. Un bacio, a stasera, ciao ragazzi.